Che sensazione hai provato oggi? Il dolore, tantissimo dolore. Qual è stato il momento più doloroso di questa giornata? Sapere cosa ha traversato mio figlio agli ultimi momenti della sua vita. Non l'ha mai guardata Filippo Turetta? Non l'ha mai incrociato il suo sguardo? Chi dà lui? Lei invece aveva lo sguardo fisso verso di lui? No, lo guardavo quando parlava. Non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta, infatti adesso il suo avvocato vuole capirne di più. Per me è chiarissimo, quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri, bisogna rispettarla. Chi è Filippo Turetta? Faccia le sue considerazioni, insomma, l'ha dichiarato lui stesso. A distanza di un anno un ricordo di Giulia. Mi amore, cosa posso dire? Vai, basta. Grazie a tutti.